Il percorso di questa sera è più semplice, c'è della musica, c'è Gaetano Liguori che fra qualche secondo comincerà e c'è una cena, ci sono poi ancora un altro gruppo musicale, quindi per stasera ci rilassiamo un attimo. Accomodatevi, non durerà tantissimo, per cui le salcicce ci aspettano, aspettano voi, aspettano anche noi. Vorrei presentare subito i musicisti che sono con me, che sono Andrea Grossi al contrapasso, e poi una sorpresa, lo dirò dopo. Adesso con Andrea, visto che siamo qua e siamo nella sede più che adatta, io farò una suite che ho scritto con alcuni brani che senz'altro riconoscerete. Io non ve li presento prima perché a meno voi li sapete, magari se fossi andati in un liceo magari un po' di meno, però fra di noi li sappiamo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 ringraziamo il nostro valoroso tecnico va bene adesso facciamo un altro bis mi vado ad andare a mangiare la salciccia e la salamella famosa facciamo un brano che non è del mio repertorio io di solito ho sempre fatto musica mia però è di un musicista che è di un musicista che è caro alla nostra generazione cioè Jimi Hendrix che diciamo così che con il pianoforte diciamo c'entra poco però abbiamo fatto questa cosa che ho registrato anche nel disco ed è Age On che era un pezzo di Jimi Hendrix e con questo vi salutiamo grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.